Io sono qui come Presidente della Regione Lombardia, è una visita istituzionale e quindi parliamo di cose concrete, dei rapporti tra le nostre due Regioni, del sviluppo dei quattro motori d'Europa e di Expo e della disponibilità della Lombardia di ospitare la Catalogna durante Expo nello spazio dedicato alla Lombardia. È andato molto bene, la Catalogna ha aderito al nostro documento, è la prima adesione, quindi sono molto felice perché è la battaglia contro la contraffazione, è una battaglia di civiltà che aiuta le nostre imprese, che aumenta la protezione per i consumatori e che favorisce la qualità, quindi l'adesione della Catalogna, la disponibilità a sottoscrivere il nostro documento è un momento molto importante che dà l'avvio alla nostra battaglia per i prodotti genuini e per la qualità. È una visita importante, questa mattina abbiamo ottenuto un incontro tecnico sul nostro documento anti-contraffazione, la Catalogna si è dimostrata molto interessata a questo e ha preannunciato la sua adesione, quindi parte bene questo World Expo Tour col piede giusto, il sostegno della Catalogna è importante e io ho detto che noi siamo disponibili ad ospitare le eccellenze nel settore agroalimentare di questa regione al prossimo Expo nello spazio della regione Lombardia. Sentirò col Presidente Massa e poi decideremo.